Se vendiamo più di 100 copie di questo volume, ogni anno faremo una fiaba con protagonisti dell'epri. Da dove è arrivata l'ispirazione per raccontare questa storia? E arriva da un cantastorie famosissimo nell'oltre poppavese, che è una tela di grandi cantastorie, che si chiama Peppino Picalò Bollani, che raccontava le gesta di Coppi, perché in quelle zone lì è nato Coppi e Castellania, paragonandolo a degli animali. Sapete che Coppi viene soprannominato l'airone, perché aveva una pedalata particolarmente elegante, il vero dal becco, eccetera. E lui cantava questa canzone dell'airone che inseguiva le lepri, questi corridori che saltavano sui pedali delle biciclette, sembravano delle lepri. Comunque lui col suo passo offertato raggiungeva, superava, eccetera. E quindi andavano in giro per i colli a raccontare queste storie qui, che poi finivano tutti con una grande festa nell'Aia, detta la festa delle zucche vuote, perché le zucche vuote erano quelli degli appassionati di ciclismo, che dopo aver visto la corsa e bevuto, diventandosi bene di vino, la sera non avevano altro da fare che mettersi a ballare con la zucca vuota. E da lì nasce questa storia. Peppino Bollani è uno dei più grandi cantastorie che ci sono stati in Italia, di cui abbiamo perso, ci sono pochissimi materiali in giro, però è vecchio ancora, si ricordano le loro canzoni, alcune a sfondo piuttosto anche esplicito, erotico sessuale, sempre usando animali, vegetali, insomma adesso non vale la pena magari stare lì proprio a rimangarle tutto. E tra le altre cose aveva questa idea, cioè dell'aggiornare le fiabe, cioè vi prendeva delle fiabe vecchie e le attualizzava, per cui ne aveva usate tantissime, raccontava tantissime, e già al cui, quasi cent'anni fa, si sorprendeva che i bambini si insegnassero ancora che il lupo è cattivo e che la strega è cattiva. Insomma, a quest'ora è ora di cambiare, cioè è possibile che i bambini hanno ancora paura di lupo e delle streghe? Ci saranno altre cose più spaventose, no? Non so, il sindaco di Como farà sicuramente di paura che avevano un orco, per esempio, ai bambini. Per cui da lì nasce l'idea di fare queste favole a sfondo civile, cioè di aggiornarle, di mettere dentro degli elementi contemporanei in modo che recuperano poi la funzione che ha sempre avuto la fiaba, cioè raccontare una storia ai bambini che abbia comunque una morale, che possa mettere su chi va là e rendersi conto quali sono i veri pericoli che ci sono adesso, che non sono certo negli lupi e nelle streghe. E da qui nasce l'idea di fare delle fiabe moderne. Racconta di questa festa e di questi popoli, il popolo verde, del popolo rosso, dove ognuno tendenzialmente può vederci un po' quello che vuole, come deve essere nelle fiabe. Però, per esempio, poi chiederò a voi se avete un'idea di che possa essere questo popolo verde o di questo popolo rosso. Alcuni dicono che il popolo verde sono i vegani, altri dicono che sono i leghisti, altri dicono, insomma, ci sono state diverse interpretazioni, interessantissime. Come sapete, insomma, le lepri sono animali particolarissimi, per cui mi sembravano adatti per raccontare questa storia. Il popolo verde è attualissimo, per cui mi sembrava interessante raccontare questa storia, e anche il popolo rosso, i popoli neri. Insomma, per dire che comunque ci sono cose che fanno ben più paura, come si diceva prima, delle matrigne. La matrigna e le streghe si sa che erano delle immagini che anche la chiesa spingeva per far sì che spaventasse i bambini, perché comunque la famiglia deve essere in un certo modo, le donne devono comportarsi in un certo modo, altrimenti sono streghe e ne abbiamo perse, ne abbiamo uccise, sono state uccise anche, pensate al potere che ha appunto la fiaba nell'immaginario collettivo. Oppure appunto lo scopo che ha quello di rendere digeribili delle storie più drammatiche, come, non so, Ansel e Gretel, che è certo che abbiano ucciso la vecchia, quello che è stata tratta, una fiaba per cercare di avrucire la storia, però, oppure il più ferraio magico, insomma, che è abbastanza uno cattivo, come ci viene raccontato, un lupo e il capucetto rosso. Quindi, secondo me, le fiabe hanno un potere talmente forte, talmente invasivo, un personaggio collettivo che possiamo anche permetterci in alcuni casi di inventarne di nuove e di aggiornarne alcune, insomma, anche se gli archetipi poi sono sempre quelli, sono il traditore, c'è il cattivo, c'è il doppio giochista, però siccome viviamo in mezzo a questa gente qui, i doppio giochisti, orchi, traditori, eccetera, possiamo anche fare qualcosa di più contemporaneo, insomma, in modo che i bambini si rendano conto che i pericoli ci sono anche adesso. E' il benegindo! Ho bisogno di te! Vedi di cavartela da solo, vecchio! Sto giocando a carte con gli amici in paese! Così inizia il gatto con gli estivali. E mentre lui parlava, mi è venuto in mente questo racconto. A lui avevo già detto prima che credo che anche noi adulti abbiamo tanto bisogno di fiabe in questo periodo, quindi credo che il valore aggiunto di quello che ha pubblicato Ombrette, che lui ha scritto, sia proprio quello di regalarci un attimo di distrazione, anche se, insomma, tra bianchi, verdi, rossi, gialli e blu, magari mancano anche quelli nella favola, o saranno solo 17 e ce ne mancano per aspettare quella dell'anno prossimo. Magari noi questa volta parliamo di cantastorie, di storie che ti hanno ispirato, ma anche di lepri e eroni. E magari, ecco, sarebbe interessante anche riuscire entro l'anno prossimo a riempire le teste. Abbiamo le zucche vuote, siccome ci sono un sacco che ha bellissimi logismi di sottintesi, magari anche non troppo, credo che sia importante che quello che esce, che può suscitare, che può raccontare in un adulto, che può leggere qualcosa di veramente spensierato, anche se ha un fondo che lascia libera, magari non troppo alla fantasia, ma parte sicuramente da qualche realtà tra orchi, fate e gatti, quindi si va. Grazie a tutti.